Arrivano in autunno nei comuni del lato Toscana Sud di Cassonetti intelligenti di ultima generazione di Sei Toscana che potranno essere aperti, oltre che con la card, con gli smartphone attraverso l'apposita app di Sei Toscana. L'obiettivo è facilitare la vita agli utenti in vista di un Atari che sia sempre più legata a quanti rifiuti differenziati o indifferenziati si producono, anziché, come succede oggi, ai metri quadri dell'abitazione e al numero dei componenti del nucleo familiare. Le novità sono state illustrate da Sei Toscana a Castiglione della Pescaia, a margine del G20 delle spiagge. Questo è esattamente lo strumento ad hoc per fare la tariffa puntuale, cioè quindi già con la tessera si individua il conferitore, il produttore di rifiuto, con il cellulare ancora di più, insomma, questo sarà effettivamente l'evoluzione. A quel punto dovremo soltanto decidere insieme ai comuni quante cose ci possiamo caricare su questa funzione. Quindi un sistema integrato che migliorerà sicuramente la qualità del servizio e della vita ai cittadini che dovranno fare una cosa banale come buttare via l'immondizia rompendosi le scatole meno possibile. Sei Toscana prosegue intanto la collaborazione con l'Università di Firenze su progetti come la fitodepurazione del percolato delle discariche, sperimentazione in corso in un sito vicino a Castelnuovo-Belardenga nel Senese. Stefano Mancuso, docente universitario considerato tra i massimi esperti italiani dell'economia circolare, ne è irresponsabile. In pratica il percolato viene assorbito dalle radici di piante particolari. Servono un po' delle piante particolari, sono comuni come specie, nel senso che di solito si usano specie tipo il pioppo, il salice eccetera, però sono dei particolari genotipi che sono stati selezionati proprio perché hanno delle capacità di degradazione, di assorbimenti di degradazione molto efficienti. Un altro progetto che fa base proprio a Castiglione prevede il riutilizzo delle cosiddette alghe che in certi periodi dell'anno invadono le spiagge. Attraverso questa posidonia si può immaginare di utilizzarle sia per la produzione di sostanze che abbiano per esempio valore cosmetico, ma sia anche proprio per utilizzarle per la produzione di materiali che possono essere utilizzati per la creazione di imballaggi o di coibentazioni completamente ecosostenibili e naturali.